Ciao! Benvenuti in questo nuovo video! Abbiamo appena finito di fare allenamento e siamo in viaggio per Ancona! Per la seconda tappa di Serie O! E mentre faremo un po' di giochi... Io devo andare sempre con un cimma! Se vogliono usare un sacchetto... No, puzza con il sacchetto! Se vogliono usare un sacchetto... Scusami! Sì, quello lì è il preferito della Deborah! Apri! Sì, Gis! Devi mandare giù! È un'uvetta! Che pancia! No, non riesco! Mangio io? Sì! No, scherzo! Cioè, non ti pare! Sì! Ora leggeriamo a questa! Cosa c'è? Aspetta! Gli ha la doccia! Gli ha la doccia, sì! Sì, dai! Hai, hai! Ha di riso scoppito! Che cacchio è? Vai! È uno di quelli bianchi! No, no! Non l'hai indovinato! Era una doccia! Sì! Pronta per questo? Fa vedere che cos'è! Fa vedere! Nooo! Io so cos'è! Pronta banana Emma! Pronta banana Emma! Dai, apri! Ah! Quella fuori così fofi! Hai mai collezionato le figurine delle Winx? Ho fatto tante mutande! Non devi urlare! Hai mai collezionato... Forte! No! Aspetta! Hai mai collezionato... È il mio collegiale! No! Hai mai collezionato... Aspetta no cane! Aspetta! Aspetta! Hai mai... Hai mai... Al mare! No! Hai mai! Hai... Mai! Mai! Collezionato! Ora? Collezionato! Non capisco niente! Collezionato! Ho reggionato! Collezionato! Ho reggiato! No! Ho reggiato! Collezionato! Non capisco niente! È tutto quello! È tutto quello! Collezionato! Collezionato! Oh mio! Bellissimo! No! Non capisco niente! No! Non capisco niente! Collezionato! Amo il cioccolato! Si! Si! Lo amo! Lo amo! No! Hai mai collezionato le figurine delle Winx? Hai mai collezionato le figurine delle Winx? No! Ripeti quello che dico! Devo ripetere quello che dico! Dio! Alla lavato! Dio! Alla lavato! L'alito! La lavato! L'alito! Alla lavato! c'è sorri alla radio c'è sorri il sole no allora no guardami alla chissà mai perchè è Ale no alla non è un nome alla non capisco niente ma niente prova alla alla volete provare guardami alla 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 si radio gara radio aso radio radio si c'è c'è sorri coli sorri 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 jolly sorri 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 dici dici da notare i capelli della kate sorri 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 Allora, sono i fiori! Ci sono caduti i pantaloni! No, ci sono ancora i fiori! Nel campo ci sono i fiori! Andiamo fuori! No! Nel campo ci sono... Andiamo? Nel... Nelle... Nell... Nell... No, Nell... 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 Campo! 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 Sì! Ci sono... V da mia! I... Fiori! Colori! Fiori! Sì! Devi mangiarlo! Non c'è l'odore! Non c'è l'odore! Guardate... No, dico no! A me piace questi! No, ma che brutto! Cosa è accaduto sulla casa? Il pinocchio! Mi piace la mia! Sono buonissimi! Sì! Prego! Dai dammi un pinocchio! Siamo molto salutari! Noi mangiamo i pinocchi! Ma non posso strano sbaglio! Ecco! No! Ma sì! Vabbè! E poi? I due! Il sole! Che bella giornata! Sapete che prima abbia visto delle nuvole a forma di faccina? Sì! Sì! La verdura? No! L'aria? No! L'acqua? E' qui dentro? E' qua dentro ma anche lì fuori! Qua dentro è stilizzata però! L'erba del prato? Ma qua non c'è l'erba del prato? Sì! E' l'erba? No! Ma non c'è qua dentro? Sì! E' l'erba? Non c'è! Solo che è stilizzata! Ah! Il pinocchio? No! La terra? No! L'erba? No! Le pregole? No! Le piante? No! Le scarpe? No! Le nuvole? Le nuvole? Le nuvole? L'aria! Il cielo! Il sole! Eh... Il cielo! Si! Il cielo! Ma non è vero! Ma non è vero! E' stilizzato di fuori vero! Mi fa vedere più! Ma... Cosa? Dov'è che stilizzato? Ma che cosa si... Vabbè fai niente! Lì! Dove c'è questo vostro cibo e le nostre verdure che stanno cuocendo! Sì! Ok! Ok! Allora... Ho pensato... A una persona? Sì! E' amica? E' amica? Certo! E' qui dentro? No! La Gianna? No! La Palli? Ma non è una persona! Ma la conosciamo almeno un po'? Certo! La mia? No! Vorrebbe essere qui ma non può! La Pallia! Sì! Sì! la duccia perché tengo mucho calor mi faccio la duccia perché è tanto caldo devo fare la duccia perché è tanto caldo dite un po' di me rispondi facendo la calcamuta mi sono spagata il cuore facendo facendo la calcamuta mi sono spagata il cuore la calcamuta? la calcamuta la calcamuta la capriola? si facendo la capriola mi sono spagata il cuore non il cuore il cuore il comito e quindi? la testa la camoccia a me devi capire il cuore è un maschio? è della palestra? no è un ginnasta? no lo conosciamo di persona? si è lo strano? ma lo conosco anche io? si ma è della palestra? no è il... Milani? no non è della palestra? no non è della palestra? no si lo so proprio si mi ha capito mi ha capito mi ha capito mi ha capito lo stefano? no lo stefano? l'ho già detto dai un qualche indizio chiedetemi qualcosa si cioè più o meno sudovi coi talli no ma non è un ginnasta è vero il ragazzo dell'anita? no mi sono lasciato ma no ok non è per niente cioè per niente non è giovane è il Tommy? no ma non è della palestra? no ma di nessuna palestra? di nessuna palestra ma è giovane e Bruno? allora io no è Bruno! si alleluia era buona ciao siamo sopra il tetto dell'hotel e fa caldo stiamo bene ed è bellissimo e io non vedo niente stico dove ci siamo non ci vedo niente e qua è il nostro balcone il nostro balcone non ci vedo 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 non ci vedo